Grazie, abbiamo appena concluso l'ultima tornata di consultazioni, quelle con il forum del terzo settore, Italia Nostra, Lega Ambiente e WWF. E anche qui abbiamo riscontrato interesse, condivisione, apprezzamento, disponibilità a un lavoro di lunga lena per il futuro del nostro Paese. Io darei subito la parola ai rappresentanti delle associazioni. Cominciamo con Italia Nostra, il coordinatore nazionale Emanuele Montini. Prego. Certamente questo tentativo, questa iniziativa di dare sistema a tutta questa forma di finanziamento sull'idrologio logico, sull'intervento sismico, noi lo vediamo con favore sicuramente. E' un approccio integrato di cui c'è molto bisogno. E purtuttavia sarà importante che questo piano non sia uno dei tanti piani casa, ma sia un piano per la vita. E' contro il rischio che in questo Paese è sistemico. Ci sono sei milioni di persone che vivono a rischio idrogeologico, ci sono altre tante persone che vivono a rischio sismico. E' bene che si prendano delle misure che vadano al di là della vita di un governo o di una legislatura, ma che siano fatti nel bene comune a lungo raggio. Per questo Italia Nostra è presente, ribadisce quanto ha sempre affermato per quanto riguarda gli eventi sismici e quelli idrogeologici, le sciagure che ciclicamente colpiscono il nostro Paese, dicendo che bisogna superare la logica dell'emergenza, la logica delle inaugurazioni, entrare nella logica della sicurezza preventiva e della manutenzione. Un'ultima notazione, altri due notazioni, noi abbiamo fatto presente al Presidente del Consiglio, l'importanza di far sì che non ci siano cittadini di serie A e di serie B di fronte al rischio sismico. Questo è quello che succede nel Lazio, perché ad esempio ci sono delle normative che prevedono il prelievo dei progetti per il controllo sulle asseverazioni dei privati che vogliono costruire le case, solo sul massimo il 15% dei progetti. Stesso rischio, sempre uno e due, in altre regioni invece il prelievo, il controllo dei progetti presentati dai privati è il 100% come in Umbria. Noi chiediamo che ci sia anche un intervento per uniformare le normative per far sì che queste discrepanze vengano cancellate. Grazie. Edoardo Zanchini, Vicepresidente di Lega Ambiente. Buongiorno. Tanto vi ringraziamo la Presidenza del Consiglio per questo invito e per questa possibilità. Noi ribadiamo quanto abbiamo già detto il Presidente del Consiglio, c'è la nostra disponibilità a partecipare al tavolo tecnico, a partecipare agli approfondimenti, a dare il nostro contributo. Noi da decenni come Lega Ambiente ci occupiamo di territorio, di dissesto, di prevenzione al 360 gradi. Io credo che uno degli aspetti interessanti di quanto abbiamo sentito questa mattina, che abbiamo capito qualcosa di più di cos'è Casa Italia e che si focalizzereà soprattutto sulla prevenzione e sulla messa a sistema di quanto si sta già facendo, che è fondamentale. Poi ci auguriamo che ci sia anche qualche innovazione che viene introdotta, sia per il versante pubblico che per il versante privato. Per il versante pubblico in particolare perché non è ammissibile nel 2016, dopo un terremoto come quello che è avvenuto qualche settimana fa, possano crollare il municipio, le scuole e l'ospedale in Italia. In un comune che aveva un piano della protezione civile che prevedeva, in caso di emergenza, utilizzare quei tre edifici come edifici strategici per partire con la ricostruzione. È chiaro quindi che c'è un problema dell'edilizia pubblica, su cui bisogna lavorare in modo diverso dal passato, dandosi le priorità e controllando, quindi ci vuole anche su questo molta attenzione a come si va a verificare. E poi c'è tutto il patrimonio privato nelle zone a rischio sismico, ma non solo, idrogeologico. E anche qui c'è bisogno di un cambio di passo. Noi pensiamo che questa sia l'occasione con la legge di stabilità per dare certezza all'ecobonus per i prossimi anni e qui intervenire anche per fare delle innovazioni che permettano anche agli incapienti di intervenire sul patrimonio di rizio privato. Sono tutte sfide fondamentali. Il Presidente del Consiglio ha usato la parola appunto progetto, futuro, questo Paese ha dieci anni. Noi le condividiamo molto e pensiamo che veramente la sfida di questo Paese sia nella riqualificazione insieme antisismica e energetica del patrimonio di rizio, come le che ambienti lo proponiamo da anni e siamo ben felici del nostro contributo. Grazie. Molte grazie. Stefano Lenzi, responsabile delle relazioni istituzionali del WWF. La manutenzione del territorio è stata la nostra parola d'ordine da anni per quanto riguarda gli ambientalisti. Dal 2013 rispetto a un documento che si chiama l'agenda ambientalista è stato posto proprio all'attenzione del Governo. Quindi non potremmo altro che dire sicuramente sì a un intervento che abbia naturalmente la capacità di integrare gli aspetti non soltanto che riguardano il rischio sismico ma che riguardano anche il rischio idrogeologico e in generale la manutenzione del territorio, compreso fra l'altro la variabile non indifferente delle questioni appunto dei cambiamenti climatici. Lo diciamo legato al fatto che se, come è stato detto oggi e nell'incontro, si vuole arrivare a una definizione delle priorità che tenga in considerazione l'integrazione di tutti quanti questi dati e informazioni, è importante poi che appunto si individuano le priorità di un intervento perché programmazione significa anche gestire bene le risorse. Rispetto a esperienze passate come quella di Italia Sicura abbiamo detto che in quel caso noi abbiamo avuto rispetto a progettazioni e programmazioni vecchie poi un intervento ex post che ha stabilito le priorità, qua bisogna che le priorità siano stabilite ad origine. Proprio perché la pianificazione e programmazione degli interventi deve essere ben indirizzata rispetto all'urgenza del Paese. E poi si va sulla progettazione perché la progettazione naturalmente rispetto ai criteri complessivi della qualità dell'intervento deve riguardare sia l'intervento sui singoli edifici ma in generazione, in generale scusate intanto, sulla progettazione urbana e quindi sulla riqualificazione urbana tenendo in considerazione per esempio che nel momento in cui si va a fare questi interventi gli interventi prioritari sulla questione delle fonti rinnovabili, delle mitigazioni, delle energie e quindi alternative dell'efficientamento degli edifici fanno parte di una riqualificazione complessiva che va di pari passo con la riqualificazione antisismica e con anche la rigenerazione urbana complessivamente di un territorio. Grazie Molte grazie Foro un terzo settore, il portavoce Pietro Vittorio Barbieri Non potevamo dicevo che aderire a un'iniziativa che tende a rimettere in campo un'idea di programmazione di progettazione in un paese che l'ha persa da diverso tempo, dalle pianificazioni sociali a quelle ambientali, a quelle infrastrutturali, il paese oggettivamente è troppi anni che non pensa agli orizzonti in cui deve proiettarsi e questo genera un'ulteriore questione nel senso che i volontari della protezione civile, i nostri volontari, quelli che accorrono sui luoghi inevitabilmente si ritrovano a soccorrere persone come in un evento annunciato e quindi mettere in campo un'idea di programmazione, un'idea di riprogettazione del nostro paese può darsi che possa evitare tante sofferenze a chi le subisce e tanti interventi che siamo costretti a fare in questa fase. Dopodiché abbiamo bisogno anche di realizzare un paio di questioni. La prima riguarda il sistema di governo. Le responsabilità oggi sono enormemente frammentate, differenziate in base ai territori. È stato detto da molti colleghi che abbiamo davvero differenze enormi tra regione e regione. Abbiamo bisogno quindi, come dire, di una programmazione che sia fortemente nazionale, che sia condivisa, ampia e che abbia un tempo di implementazione dal momento della determinazione non biblico. Un piano di 10 anni non significa che questo debba realizzarsi in 20 o in 30 anni. Un piano di 10 anni si deve realizzare in 10 anni. Ultima questione riguarda la sofferenza che ci viene nelle nostre organizzazioni del territorio, specialmente del Reatino e del Diascoli Piceno. Ci viene segnalato in maniera molto forte che l'eco bonus, o i bonus, scusatemi, che sono finora stati erogati, non hanno avuto grandissimo successo in virtù del fatto che non c'è una liquidità e non c'è l'ammortizzazione, diciamo, del costo dell'intervento da un punto di vista finanziario e quindi con un prestito bancario. Abbiamo bisogno invece, i cittadini hanno bisogno di una liquidità e di un costo di quella liquidità che non sia enorme. Insomma, un prestito bancario con forme egevolate piuttosto che un recupero di tassazione che avviene anch'esso in uno spazio molto più ampio. Quindi, come dire, un'attenzione a questi meccanismi. Ultima questione è quella delle seconde case. Finora la grandissima parte dei finanziamenti sono andati alle prime case, come se nelle seconde case non abitasse nessuno. La realtà è che questo non accade e quindi, inevitabilmente, abbiamo trovato in questo terremoto, in particolare in questo terremoto, ma solo in questo, anche persone che sono morte all'interno di quella abitazione o che hanno subito dei gravi danni personali, che residevano in una seconda abitazione. È chiaro che questo è un tema che va affrontato, evidentemente con una priorità alle prime abitazioni, ma le seconde abitazioni non possono essere completamente escluse dall'intervento del piano dicennale. Molte grazie. Questa era l'ultima tornata di consultazioni, queste prime consultazioni che abbiamo avviato. Noi adesso, come già specificavamo sia con le associazioni qui presenti, sia con gli altri soggetti che sono intervuti stamane. Procederemo sulla base della documentazione che ognuna delle associazioni ci farà pervenire. Avremo un'interazione diretta con ogni soggetto che oggi è stato qui presente a Palazzo Chigi per arrivare a un ulteriore sviluppo del nostro lavoro con, in termini anche di un disegno più completo e operativo, nelle prossime settimane. Grazie a tutti.